Come si è composta da cittadini e cittadini di questa comunità che vogliono far continuare il progetto di Gianguido per i prossimi 5 anni? Sono rimasti contenti, qualcuno si è troppo proposto, qualcuno è stato contattato, tutte persone hanno la prima esperienza, una possibile prima esperienza da considerare comunale, pochissimi si sono candidati negli anni scorsi, la stragrande maggioranza no, quindi sono entusiasti di poter iniziare questo percorso con la speranza che Gianguido possa continuare i prossimi 5 anni. Il suo approccio è successo qualche mese fa? Quale rispetto alle persone? Il suo approccio è successo che all'interno di una comunità come quella del centro sinistra ci sono delle dinamiche e in modo concordato abbiamo fatto delle scelte, anche la lista che faceva riferimento a Graziano Ciappana e a Mauro D'Ammazio, giustamente ha avuto il suo spazio come l'ho avuto io negli anni precedenti, una comunità sta insieme anche attraverso queste operazioni e questo dimostra la mia presenza qui, il mio lavoro fatto nei mesi scorsi per creare questa lista, anche insieme agli amici dei socialisti per il lavoro e anche ad altri amici dimostra che c'è una forte coesione all'interno di questa comunità attorno al circuito aperto.